Sì, esatto, sì, fischia un po', se ce l'hai. Di tutto. Ok. Pensa una parola se possiamo iniziare. Esatto. Ciao, Gazebo Penguins, a volte da Correggio, a volte da Zocca, stasera da Zocca, grazie Perugia, grazie Umbertide o Umbertide, Luca Beni, tutto quanto, facciamo altri pezzi veloci e così via comincia il banchetto, i cd, i dischi, via. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. E tutti questi pezzi che facciamo sono contenuti in un disco che si chiama Legna, che ha il banchetto in coppie anastatiche. Adesso è il secondo pezzo di queste coppie anastatiche che fa il secondo pezzo. Vai. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.